Buara 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 Trizio per voi in giochi di mezzo neurone Benvenuti amici in questo nuovo episodio io sono Trizio e oggi siamo qui di nuovo su Slenderman Shadow Per affrontare l'ultima mappa di Slenderman Shadow ovvero Christmas Special Sì sarà una mappa incentrata sul tema natalizio e sì purtroppo questo è l'ultimo episodio Perciò vediamo come andrà però di certo io non ci giocherò mai più a queste mappe Perché ne ho avuto abbastanza direi perciò vediamo com'è l'ultima per chiudere in bellezza E speriamo che non sia deludente al massimo perché Carnival veramente era una roba costruosa Come del resto anche altre che non mi sono tanto piaciute Però magari questo qua essendo ottimo e diverso può darsi che sia più interessante Comunque partiamo subito Ma c'è anche la musichetta figata Ma allora qua cosa vuoi che faccia paura La musichetta Bellissima No, insomma è una sigla di cartone di Vattro Ma comunque non trovo un cazzo Mannaggia la miseria Cos'è sta roba Un passo fatto bellissimo Adesso ho le pagine Esistono le pagine o Ma perché No, devo raccogliere i pacchi regalo Oltre che pagine Ok Il primo Quanto punto Non c'è niente Vediamo se sarà stronzo Slender Sicuramente Farà lo stronzo Perché è sempre stato stronzo Non c'è niente Oh sì Usuato Gignolo Ehi Fai Dilo Usuato Scusate Buon Natale Neslender Cos'è cazzo Merry Christmas O Bellissimo Bellissimo Allora dai Questa cosa vale la pena Di essere giocato Ti diverti C'è anche la musichina bella E in più non c'è Slender Ma c'è Babbò Natale Che cerca il tuo braccio Quindi Direi che è la mappa Del secolo Sono este simbolo Di facchi Adio Grazie a tutti Grazie a tutti andrà a trovare qua tu ma sicuro mi prenderà perchè si sarà un pittorio adesso non ne trovo più questo destino ma ci sono i glow stick qua, aspetta ci sono i glow stick, ah è la dietro comunque cacchio, vai via, amore di dio adesso mi prende ancora un cazzo, ancora un cazzo, non corre niente, non corre niente ma comunque c'è sempre 3 su 8, mannaggia la miseria dai l'ultima volta ragazzi dai che siamo a 2 let's go to the third quanto è grosso questo? c'è niente, ah invece si ragazzi è sempre il terzo eh? dai il quarto dov'è il quarto? almeno il quarto non dico chissà che ma almeno il quarto cioè dai cacchio, mi è già dietro porca miseria, adesso mi prende già ma dai ma che p***o con il nero no mi sono anche chiuso, cazzo via, via, dai via da qua no mi è già dietro, eh vabbè ma mi prende già che p***e infame di m***e dai, quarto, quarto si dai, c'è più affare c'è più affare c'è più affare no, mi è dietro, mi è dietro, attenzione e poi viendo ma corri, corri guido eh però adesso, vi ho corri muov 몰�aterra ho ho stavo per prendere il sesto va bene sono più che soddisfatto Intanto la mappa mi è piaciuta, è stata veramente simpatica e divertente, vabbè non era tema horror diciamo sì, possiamo chiamarlo horror ma era tutt'altro forche horror anzi mi sono divertito parecchio. E niente quindi il nostro appuntamento con Slenderman Shadow finisce qui, spero che i video vi siano piaciuti e che diciamo la saga vi sia piaciuta e niente noi ci rivediamo in un prossimo video, ciao ragazzi!